Il terrorismo e il San Nicola è una prova di sostanza anche quest'oggi, anche se abbiamo meno minuti nelle gambe rispetto a loro. Marco, l'Italia avrà a disposizione, così come la Francia, del resto sei campi, chi ti aspetta di vedere nella ripresa c'è tanta attesa, soprattutto per Belotti e Berratti. Innanzitutto Belotti, innanzitutto Andrea Belotti perché è un pupillo di Ventura. Ventura disse qualche tempo fa, se Belotti non va in nazionale io non allenerò più, guarda il caso.